Il punto di Pagani permette al Teramo di tenere più lontana la zona fuori dei play-off, ora distante 4 punti, ma è l'unica mezza buona notizia dello 0-0 contro la Paganese. Al Torre va in scena infatti una squadra con le consuete difficoltà nel far male agli avversari, che alla fine, a ben guardare le azioni, saranno anche più pericolosi. Non c'è Costa Ferreira nel Teramo dal primo minuto, ci sono invece K ed un 4-3-3 che però nella prima frazione produrranno qualcosa solo nel finale di tempo. A partire bene è la Paganese e ci vuole l'istinto di Tomei per evitare che Diop porti in vantaggio gli azzurro stellati dopo neanche un minuto di gara. Qualche istante dopo Perry beffa K in uscita e chiama di nuovo all'intervento l'estremo bianco-rosso. Il Teramo regge l'urto in qualche modo e si sistema meglio in campo, tenendo il pallone ma vedendo comunque i locali essere più incisivi. Al 28esimo infatti Diop gira di testa un cross dalla destra di Scarpa, non trovando lo specchio. Due minuti dopo il direttore di gara ammonisce Cancellotti dopo un fallo su Scarpa, quando invece la Paganese chiede a gran voce il rosso diretto per il difensore del Teramo. Il diavolo si desta da palla inattiva nel finale. Prima al 41esimo con Arregoni ed un calcio di punizione sbrogliato in qualche modo dalla Paganese. Un minuto dopo dagli sviluppi di un corner con Piacentini che prova ad inquadrare non riuscendoci. Ad inizio ripresa Dimascio chiama fuori K per Mungo che sembra subito entrare nel vivo del gioco. Prima chiama Santoro al tiro con deviazioni di Baiocco e poi ci prova con un destro che deviato finisce di poco a lato. I ritmi tornano poi gradualmente a calare. La Paganese protesta di nuovo per un tocco a dire dei locali sospetto in area di Cancellotti ma il direttore di gara lascia proseguire. Nel finale Schiavino lascia i suoi in inferiorità numerica per un fallo da dietro su Billigea Centrocampo. Un'ingenuità che permette al Teramo di vivere con l'uomo in più il recupero non riuscendo però mai a proporsi. Finisce con il primo pareggio dell'anno per il diavolo che domenica prossima al Bonolis riceverà la Virtus Francavilla.